In fase di smantellamento la copertura in Eternit dell'ex stabilimento ceramico a Borio di Bedonia, un'opera di notevole risanamento ambientale che si auspica possa preludere ad una ripresa dell'attività produttiva. Polemiche in bassa Valtaro per la costruzione di un parco eolico sul crinale di confine con la Val Pessola in comune di Solignano. Il programma religioso della ricorrenza della madre di consolazione a Bedonia avrà quest'anno come momento culminante la benedizione dei bambini. Iniziativa di raccolta fondi a Bordotaro per donare a Walter Belli una carrozzina manovrabile con il movimento del mento. Confermata la presenza alla festa degli Amor di Borgotaro dell'azienda altoatesina Loacher, produttrice dei famosi Waffer. Spettacoli gratuiti in cambio dell'ospitalità nelle scuole. Accordo per il festival dei giovani tra il comune di Bercetto e l'associazione Ok Club. Buonasera e benvenuti al consueto appuntamento con l'informazione locale di Radio Tele Appennino Parma. I 12 mila metri quadri di Eternit che coprivano il tetto dell'ex stabilimento ceramico a Borio di Bedonia sono in fase di smantellamento. Il lavoro, oltre a rappresentare un'opera di notevole risanamento ambientale, costituisce un nuovo passo in avanti verso l'auspicata ripresa dell'attività produttiva. Dureranno circa tre mesi i lavori di rifacimento del tetto dell'ex stabilimento ceramico a Borio di Bedonia, un'opera di notevole risanamento ambientale a cui sta procedendo l'impresa che ha acquistato l'immobile. La copertura, risalente ai primi anni 70, era infatti in Eternit, prodotto che come tutti sanno è prevalentemente composto da amianto, materiale altamente cancerogeno e quindi pericolosissimo per la salute dei cittadini. Il lavoro sta venendo eseguito con tutte le precauzioni necessarie, ovvero cospargendo le lastre prima della rimozione con uno speciale fissante che impedisce l'eventuale dispersione di fibre nell'atmosfera. A rimozione completata si provvederà poi a posare una nuova copertura con materiale più sicuro. Dopo l'acquisto dell'immobile da parte di un'impresa locale e la rimozione degli impianti obsoleti all'interno dei capannoni, è questa la terza fase del progetto che si auspica possa consentire la ripresa dell'attività produttiva. Terminato il rifacimento del tetto, si dovrebbe dunque passare all'adeguamento degli interni per il montaggio dei nuovi macchinari. Per discutere i tempi di realizzazione, mercoledì 15 luglio è in programma un incontro presso la sede dell'amministrazione regionale a Bologna tra le organizzazioni sindacali, l'assessore alle attività produttive Palma Costi e l'imprenditore del settore ceramico che si è impegnato a far ripartire l'attività. Dopo avervi proposto nel notiziario di ieri sera un servizio sulla festa dei forni a Mazzareto in comune di Solignano, torniamo oggi a parlarvi di questa località. Nelle sue vicinanze infatti è stata progettata la costruzione di un parco eolico sulla quale non tutti sono d'accordo. Ancora una volta la polemica su eolico sì o eolico no si fa strada nel nostro territorio. La scritta che vedete si trova sopra un cartello sulla esecuzione dei lavori per la costruzione di una pala eolica in località Mazzareto di Solignano, posizione molto bella ma anche una posizione in cui probabilmente il vento è forte e capace di produrre una quantità di energia elettrica sufficiente a coprire i costi di investimento. L'importanza oramai di svincolarsi dalle fonti energetiche di origine fossile è acclarata, ma come? Con il nucleare no. L'idroelettrico non è sufficiente, il solare ci lamentiamo per l'impatto visivo e poi chissà cosa faremo tra qualche anno dei pannelli da dover smaltire. L'eolico potrebbe essere una soluzione, forse non l'unica, ma sarebbe importante trovare anche delle soluzioni e non limitarsi sempre e solamente di tutto. Sono tanti gli eventi sia religiosi che ludici in programma Bedonia per la ricorrenza della madre di consolazione o come viene comunemente chiamata la Madonna di San Marco. Una particolare attenzione nel programma religioso di quest'anno sarà però dedicata ai bambini. Sarà la benedizione dei bambini che avverrà domenica pomeriggio alle ore 17 il momento su cui quest'anno si è voluto porre l'accento all'interno del programma delle cerimonie religiose che avranno luogo a Bedonia nel corso della festa della madre di consolazione, meglio conosciuta come Madonna di San Marco. Programma religioso che ha preso il via ieri sera con l'inizio del triduo solenne di preparazione e proseguirà domani alle ore 16 con la celebrazione eucaristica per gli anziani e l'unzione degli infermi presieduta dal vescovo Monsignor Giorgio Corbellini e alle 20.30 con i vespri e la processione confiaccolata attraverso il parco del seminario. Domenica mattina alle ore 10 Santa Messa Solenne presieduta dal vescovo di Piacenza Monsignor Gianni Ambrosio e come premesso nel pomeriggio alle 17 avrà luogo la benedizione dei bambini. Una tradizione questa che si rinnova da svariati decenni ma a cui quest'anno si è voluto dare particolare importanza. Sarà un momento di preghiera, di divertimento, di canti e anche di balli. i bambini devono, bisogna aiutarli a capire che Dio è grande, che Dio vuole il loro bene. Un bambino mi ha chiesto ma cosa faremo quando saremo in paradiso? Mi ha presa la sprovvista Dio ho detto balleremo e canteremo con il Signore. Ecco quell'ora, un'ora, un'ora e mezza che passeremo insieme ai bambini deve essere proprio questo. Un pregare, un lodare e ringraziare Dio per le meraviglie che compie nei bambini soprattutto ma in tutta la nostra comunità. E poi i bambini devono anche potersi divertire. Non vedere la preghiera come un obbligo ma vedere la preghiera come qualche cosa di bello. Come quando si rivolgono al papà e alla mamma e dicono al papà e alla mamma mamma papà ti voglio bene. Ecco così i bambini devono poter dire questo con il Signore e con la Vergine Santissima. Ci saranno degli amici dei giovani che ci aiuteranno in questo momento così particolare dei bambini. Abbiamo scritto, mi interessa proprio dirlo, abbiamo scritto che sono invitati tutti i bambini appena nati fino a 90 anni ma aspettiamo anche tante mamme col pancione. L'anno scorso ce n'erano cinque mamme col pancione. Quest'anno vedremo quanti saranno, speriamo che ce ne siano tante. L'ultimo momento religioso di particolare rilevanza sarà la Santa Messa per gli emigranti che verrà celebrata in Basilica alle 18.30 da un missionario scalabriniano. Intenso anche il calendario ludico imperniato naturalmente sulla presenza del Luna Park ambulante con tutte le sue attrattive per bambini, giovani e meno giovani. Non mancheranno poi le bancarelle che coinvolgeranno nella festa non solo il Colle di San Marco ma anche l'intero paese. A concludere i festeggiamenti prima dello spettacolo pirotecnico sarà ancora una volta la Glenn Miller Band che sulla gradinata della Basilica aglieterà l'evento con le sue note. Grazie a tutti Dopo la perimerla organizzata alla fine del gennaio scorso, Borgotaro si è nuovamente mobilitata in favore di Walter Belli, il campione di ciclismo bardigiano gravemente leso a causa di una brutta caduta. I fondi raccolti serviranno per l'acquisto di una carrozzina manovrabile con il movimento del mento. Gli amici della montagna ma non solo per Walter Belli, nuovo appuntamento in sala Imbriani a Borgotaro per raccogliere fondi e per aiutare Walter a sostenere le spese delle terapie necessarie per la riabilitazione dopo il grave incidente che ha subito più o meno l'anno scorso. Ecco Luigi, diciamo gli amici della montagna si sono fatti promotori di questa iniziativa ancora una volta come già a gennaio con la perimerla a cui hanno aderito anche altri soggetti. Il gruppo degli Imbriani che vanno in mountain by in bicicletta, poi quelli che fanno il quadrifoglio alle corse alla 3T e altri gruppi di Borgotaro e anche della Vallata. Noi siamo soddisfatti anche questa sera perché nonostante il tempo la partecipazione è notevole. Abbiamo anche la fortuna di avere qui Giacomo, ci ha dato la notizia importante che Walter lunedì è rientrato a Parma nel suo appartamento e adesso speriamo che ci siano dei miglioramenti molto importanti. L'incasso della serata di stasera servirà per uno scopo ben preciso Mauro? Sì, il ricavato di questa serata verrà utilizzato per l'acquisto di una strumentazione che arricchirebbe una carrozzina particolare, cioè una carrozzina che viene guidata, che viene manovrata con il movimento del mento, perché purtroppo Walter non ha nessun'altra possibilità motoria. Quindi esistono dei sensori che gli consentono la maggiore autonomia. E quindi tra l'altro questa sera ancora una volta siamo rimasti, non dico stupiti, ma comunque sorpresi dalla presenza di tante persone, di tanti giovani che appunto tra l'altro hanno anche portato torte, hanno portato vivande da poter condividere. Quindi ancora una volta le nostre valli, e non vorrei dimenticare ma anche la Val Ceno, le nostre valli hanno ancora una volta testimoniato questa storia, questa storia di solidarietà. Walter è riuscito a tornare a casa, diciamo ci sono possibilità di ulteriori miglioramenti, però la strada è ancora lunga diciamo. La strada è sicuramente ancora lunga, però è una strada che noi percorriamo con ottimismo, soprattutto con rispallati da amici come voi, come la Val Taro, la Val Ceno. Con amici che si fanno in quattro, che un'altra volta dimostrano che la solidarietà non è una cosa di poco conto. E noi forti di questo aiuto sicuramente capiamo che i miglioramenti sicuramente ci saranno. Walter adesso è arrivato a casa, è riuscito ad avere in autonomia un respiro per quasi dalla mezz'ora all'ora e questa carrozzina saranno le sue nuove gambe. Poi il padre Zerno ci dirà quello che potrà raggiungere come risultati. Però intanto questo gli permetterà la provata Imola, è una carrozzina che gli permette di fare, è una 4x4, gli permette di fare le cose che normalmente una persona normale riesce a fare. Andare a casa sua, andare a far visitare i suoi cani, i suoi animali, quelli che ha nell'agriturismo. Quindi potersi muovere con una certa indipendenza nel suo ambiente familiare, ricevere degli amici e non essere vincolato a un trasporto assistito. Questa è una cosa non di poco conto, soprattutto dal lato morale per un ragazzo che è abituato ad affrontare e a vincere sfide. Vi ringrazio, vi ringrazio col cuore al nome della mia famiglia. Stasera siamo qui con mia moglie, mio figlio Diego, la sua fidanzata. Non c'è Marco perché purtroppo lavora via e Walter chiaramente con la sua compagna sono a Parma, nel loro nido, in modo che possano cercare il recupero possibile. Grazie a tutti ancora. In occasione del ventesimo anniversario del genocidio di Sebrenica in Bosnia, le associazioni del volontariato borgotarese invitano la cittadinanza a partecipare questa sera, venerdì 10 luglio, alle ore 21, presso l'auditorium Mosconi, ad una serata di commemorazione. Il discorso ufficiale sarà tenuto dal giornalista Rai Filippo Landi, la corale lirica valtarese interpreterà dei canti di circostanza e l'attrice teatrale Simona Caucia leggerà il poema Le lacrime delle madri di Sebrenica. Domani, sabato 11 luglio, avrà luogo una Marcia della Pace che si articolerà su due percorsi. Uno più impegnativo partirà dal Passo di Santa Donna alle ore 17, l'altro più facile partirà dal piazzale immediatamente a monte del castello di Compiano alle 19. I due cortei si incontreranno poi alle 20.30 a Strela, accolti dal coro Voci della Valgotra che si esibirà con canti appropriati. Presso la trattoria Solari a Ceresetto di Compiano, laboratorio di psicodramma condotto da Gigi Dotti e Paola Solari da questa sera, venerdì 10 luglio, a domenica 12 luglio. E incontro gratuito, storie di vita in scena, domani, sabato 11 luglio alle ore 21. Chi non può partecipare all'intero laboratorio è invitato all'incontro gratuito aperto a tutti che appunto si svolgerà domani, sabato 11 alle ore 21. Si tratta di un'esperienza molto interessante sia per chi lavora nel settore sia per chi vuole avere una maggiore conoscenza di sé. Ancora presso la trattoria Solari a Ceresetto, domenica 12 luglio, a pranzo si mangia anche sull'Aia in compagnia del fisarmonicista Atos Bassissi. Menu con grande varietà di piatti a base di funghi e per chi non ami funghi tante altre cose buonissime. Inoltre pizza anche a pranzo e per tutto il pomeriggio. Per informazioni e prenotazioni telefonare al 338 70 59 569. L'agenzia Taro Travel di Borgotaro comunica la partenza del 31 luglio per Torre del Lago per assistere all'opera La Tosca di Giacomo Puccini in sostituzione dello spettacolo di Roberto Bolle del 29 luglio cancellato per maltempo. Si pregano i partecipanti di passare in agenzia per la nuova prenotazione. Grazie. Grazie.